dalle nostre parti. Allora, Giussi, partiamo un attimo dall'inizio, no? Sì, sì. Tu sei di Secondigliano? Capodichino, sì, resti di Secondigliano. Piazza Capodichino. Con questa grande voglia di cantare? Sì, da bambina. Però non lo facevo perché comunque avevo vergogna di esibirmi in pubblico. Con una famiglia umile? Umilissima. Umilissima. Ancora oggi. Ancora oggi? Ancora oggi. Ora, che cosa è successo? Che poi a un certo punto avrai pensato, qualcuno ti ha fatto pensare, vabbè, Prouhamesh. Ok? Sì. È stato così. Vediamo che cosa succede. Il mio papà. Il tuo papà. E il primo disco lo fai con Leo Ferrucci? Leo Ferrucci, sì. Ecco, con Leo Ferrucci. Prodotto interamente da lui. Già conoscevi Peppe Di Donato? No. Non lo conoscevi ancora. Ah, quindi quando sei andata da Leo Ferrucci, Peppe Di Donato non la torna? Non esisteva Prouh. No, no, no. Ah, quindi sei andata da sola con papà? No, da sola facendo quelle canzoncine che si fanno solitamente nel periodo natalizio. Tipo? Tipo, quando si riuniscono 10-15 artisti e fanno quelle canzoncine natalizie. Ah, quelle robe corali. Che poi tra l'altro l'autore sta proprio qui presente con noi, Mino Sabani. Ma Mino Sabani è specializzato in Natale. Quando si tratta di Natale... Uè, voglia di più. Uuuh, Mino Sabani sta sempre in mezzo. A Pasqua sparisce, ma a Natale sta sempre in mezzo. Ma dico, quando sei andata da Leo Ferrucci... Andiamo lì per incidere questa canzone di Natale. E lui ascoltò la tua voce e disse... E disse, ma perché Giussi, tu hai una bella voce, perché non canti? Perché... Se Leo guarda, io comunque sono parrucchiera, perché l'ho fatto per 12 anni questo mestiere. Sono visaggista, però l'opportunità di cantare come pensai, perché comunque ci vogliono tanti soldini, io non ce l'ho. Però non ti nascondo che man mano sto acquistando dei testi, delle canzoni. Quando avrò l'occasione di incidere un disco mio, lo farò con tutto il cuore. Passò una giornata e Ferrucci mi contattò lui su Facebook. E mi disse, Giussi, perché non devi fare una passeggiata qua? Ti devo parlare delle cose e tutto quanto. E lui disse, Giussi, io da quando ti ho visto, ho rivissuto i momenti quando io volevo cantare e non tenevo una lì. E mia mamma mi aiutava dicendo, belle mamma, perché la mamma non ce l'ha, Leo, no? Sì, belle mamma, non ti preoccupate, Gesù Cristo te la fozzo, può fare e tutto quanto. E dice poi, c'è riuscito anche lui. Allora lui, vedendo me, automaticamente è apparso Leo Ferrucci di 30 anni fa. Nacque il duetto, il disco con lui, canzoncine scritte da me, 5 o 6, se non erro. Come si chiamava il disco? Emozioni di una donna. E' come quel disco, veramente, quel disco è una roba strana, perché quello è un bellissimo disco. Si sta sondendo. No, quello è un bellissimo disco, ma succede sempre così, perché poi quando gli artisti diventano famosi, insomma, popolari, poi succede che tu ti vai a riscoprire tutto. A scoprire, è certo. In quel disco lì ci sono un sacco di canzoni, mi sono preso delle capate impressionanti. È un mal d'amore, un capale. Un mal d'amore, un capale, insomma, è diventata veramente... Una mattina mi capitò di ascoltarti in radio, mentre raccontavi l'aneddoto del marocchino, se non erro. Ah, le sentite che lo fatti. Sì, sì, è una mattina di ascolto. No, un marocchino, tenevo tutta la discografia. Tutta la discografia, però non parevi io, andavo a macchina, puricina. No, perché il disco si sentevano schifo, e quindi quella che io sentivo nell'auto, di quella, insomma, non era Giuseppe Nasio, però in quel disco ci sono un sacchissimo, un sacco di belle canzoni. Urrero Cormio. Ma voglio sapere una cosa, ma c'è un duetto con Peppe Di Donato, dove sta questo duetto con Peppe Di Donato? Il duetto con Peppe Di Donato, vabbè, noi l'abbiamo inciso un anno dopo, dalla nascita del mio primo lavoro discografico, però essendo che la canzone era di Peppe, che all'epoca Peppe cantava ancora, uscì come singolo. E poi io l'ho messa nel terzo lavoro discografico, in cantesimo, l'ho messa nel disco. Ma è vero che vi costringono a cantarla quando lo vai a fare? Non voglia, ci fanno fino a cantarla. Non sta sardegno, Peppe. Lino Crispi e Bianca Sollazzo. Lino Crispi e Bianca Sollazzo, stiamo parlando del duetto. Come canta Peppe Di Donato, scusami? No, so fruscia, lo sapete. Perché lui giustamente, allora, essendo che lui sta fresco fresco a livello vocale, no? Perché non lo fa più, non esercita più questo lavoro. Allora, so fa che la canzonella ogni tanto, e si fa, la so, ti astà, perché poi sono comasta, soffrì. Eh, vieni tu, e anche nel momento tutti si festeggono in coppia in corte vocale, penso che è normale, che comunque io mi sento un po' stanca vocale. C'è, fa pure master. Allora, di me ne voglio di più. Ho capito. E la gente, ma apprezza di comba. Come no? Dipende dal pubblico. Ma apprezza, perché secondo me vede un quadretto. E' una realtà che si vive a casa mia quotidianamente, capito? E' una realtà completamente diversa da quella di Enzo Ilardi. Enzo, pensa se tua moglie cantasse. Eh. Eh. Vabbè, lei conosce bene. Sì, ma sua moglie ha una dote eccezionale. Quale, Giussi? Cioè, lei, ecco, lei che gestisce. Io mi sono trovata davanti in qualche episodio, lì, ha con quella... Quella forza proprio come se fosse un uomo. Sì. Un manager maschio. Eh, ma che lei è ombano poco. No, ma che lei è infatti. E' proprio... E' così, è da pensare. Lei ha una forza che è molto maschile, insomma. Ha un potere anche su Enzo che in realtà loro sono... Vado io, vado a parlare con questo, quello è... No, ma fa tutto lì. Eh, lo so, è appunto per questo. È una roba. No, ma io credo che poi tu sei anche contento di questo, no? Nel senso che lì ha... No, adesso lei è andata un po' da parte perché ho dei problemi della sua famiglia. Però tu sei contento se hai qualcuno che gestisce un po' per te, no? Delle cose... Andiamo nel fatto proprio personale. Lei, nei momenti non miei, come si dice a Napoli, si ha miso qua a zona insieme a me. Sì. Quando il cinema coppia era due uomini, non ero marito e moglie. Sì. Allora da quel momento è nato questo rapporto che lei... sa quando sto io e lei perché io ho avuto tante cattiverie nella mia vita. Lo difende. E lei è uno che guarda molto lontano. E perché io sono sempre un facilone, vedo tutto buono, tutto bello. E se vede lontano, come ho detto, era già la settimana scorsa. E allora, per esempio, lei dice sempre guardati bene le tue cose. Adesso lei è un po' da parte a chi ha dei problemi. A me fa piacere che lei è presente perché guarda avanti. Che le dà un becchio per esse. È la capacità che abbiamo... Diciamo che è il mio scudo che mi fa da scudo. È bella questa cosa. Quello che non vedo io, lo vede lei. È una fortuna avere accanto una persona così. Perché molta gente ha della gente accanto, una persona accanto, ma in realtà è come se non ce l'avesse. Senti, ti volevo chiedere una cosa, Giuse. Ma tu ti sei mai sentita messa alla parte? Cioè, soprattutto... Allora, i cantanti napoletani vivono un po' questa situazione del ghetto. Cioè, nel senso che non sono apprezzati per come dovrebbero essere apprezzati. Perché in realtà poi si portano dietro un sacco di cose. E il più delle volte non è neanche colpa degli artisti. Ma perché, per esempio, nel tuo caso, prima di te c'è un mondo di robe bruttissime che sono state fatte, che sono state dette. E uno paga un po' lo scotto, no? Di tutti questi anni e roba varia. Ma dai tuoi colleghi tu ti sei mai sentita un po' emarginata? All'inizio sì, inizialmente sì. Oggi ti posso dire... È proprio il discorso che stavamo affrontando pochi giorni fa in macchina. Gli dissi, Peppe, guarda un po' la vita com'è strana, com'è cambia all'improvviso. All'inizio comunque ti mettevano da parte, non ti reputavano una di loro. Magari, sai, vedi qualche artista che canta da 20, 30 anni. Non ti considerano. C'è un personaggio che fa parte addirittura della mia famiglia e non mi ha mai considerato. Oggi ti posso dire che comunque te li ritrovi tutti davanti. Uè, giù, sì. Cioè ti vengono a salutare loro. Ti guarda la vita com'è strana. Non dovrebbe essere così nel modo più assoluto, perché bisogna rispettare sempre, dal più piccolo al più grande. Io così la penso. Quella è l'ipocrisia. Sì, sì. Io oggi attualmente mi vogliono bene, a prescindere dall'artista, ma per la persona che sono. E' giù, se tu non sei cambiata proprio. Com'è, così si rimasta. E così rimarrò sempre, a vita. Magari potrò avere la fortuna di un giorno, di... Io non lo spero, perché automaticamente, dico, le cose nascono da sole, non me le vado a cercare. Io così si ho fatto. Si può essere messa a proporre una rosa rima, per dirtene una. Io non mi vado a proporre. Si agendano con il Lado Moon, che non fa parte del mondo nostro. Ti voglio, perché ti posso assicurare che stiamo sotto l'occhio del mirino di tutti, perché ho avuto delle telefonate, dalla Rai, dalla Mediaset, e tutto quanto. Quindi conoscono la nostra vita proprio a 360 gradi. Certo. Ok? Quindi se qualcuno ti vuole scoprire e ti vuole far arrivare, ok? Ti fa arrivare, ugualmente. C'è bisogno che ti vai a presentare. Io così la penso. Quindi io faccio il mio percorso, come l'ho sempre fatto, nel modo, quanto più umile possibile, mi metterò sempre a disposizione delle persone che magari non hanno la possibilità, perché lo sa, il cantante è il lusso, avere un cantante alla propria festa è il lusso. Quindi oggi non è più come quando ho iniziato, magari 4-5 anni fa, avendo una produzione alle spalle, lo sa, le spese sono maggiori, quindi i sacrifici sono enormi, perché automaticamente non ci sto mai a casa, avendo una famiglia, avendo adesso la gioia di diventare mamma per la seconda volta, quindi ti lascio immaginare come sarà adesso la mia vita da giugno in poi, ancora più frenete, con due figli, una casa. E quindi, ovviamente, i sacrifici che faccio oggi ne voglio essere ripagata, nel modo più assoluto. Senti, questa gente che all'inizio non ti salutava, parlando degli artisti, era un fatto generazionale, cioè erano giovani, erano i vecchi mamma santissima, erano tutti, in generale, quindi non era solo un fatto di giovani, erano tutti. E quelli sono i più ipocrita che ci sono in questo ambiente. E Leo è stato uno di... Dei pochi, che sei una persona squisitissima. l'unico che alla fine comunque mi ha considerato fino al primo... Ma non solo a me, in generale. Lui considera tutti e è l'amico di tutti. Senti, ma poi parliamo un attimo del disco nuovo, di questa bomba, di questa donna in fracca con Fiorellino. C'è rimasto male Ferrucci? Che sei andato da Fiorellino? Io gli ho dedicato l'intero disco a Ferrucci, perché poi c'era dedicato nel disco, lui lo sa bene. Lui mi disse all'epoca domani ci potremmo appicciacare, però comunque io voglio che tu ti porti nel cuore quello che ho fatto per te. E non lo devi dire. Perché non voglio che tu sei una donna. Quindi essendo che sei donna e io sono un uomo, giustamente perché Leo Ferrucci poi ci ha fatto un disco giusta giusta giusti attanassi perché è una femmina? Giustamente, perché lo sai i pregiudizi delle persone fanno paura. E invece lo dico tranquillamente, avendo la coscienza pulita e sapendo Leo perché mi ha aiutato, non l'ha fatto per nessun scopo, né di denaro e né giustamente perché lui è un uomo e so femmina. Io lo dico apertamente, lo dico tranquillamente e io lo dico. Poi ovviamente nel percorso artistico sono cambiate delle cose, avendo una produzione come ben sai tu sei costretta comunque anche a seguire un pochettino i loro passi perché poi non sei da sola ovviamente a comandare, lo sai, e quindi cambiano delle cose. Però resta il fatto che comunque Leo è sempre Leo, rimarrà sempre Leo. E Mucce, l'attesa, a parte che a maggio esce un cofanetto con un tatto di concerto a Piazza Mercato con quattro inediti, questi inediti li hai fatti con Fiorellino? No. Le farei con Fiorellino? No. E questa è la grande curiosità. O prossima disc, e prossima canzone. Sarà Gianni Cuciniello e te lo dico apertamente. E perché Gianni Cuciniello? Ma è una domanda data dalla curiosità che si muove attraverso la mia curiosità. Per nessuna cosa a livello personale, perché Gianni comunque ha dato se stesso, ha dato l'anima nel farmi questo lavoro discografico, dalla scelta dei brani, in tutto e per tutto. Mi ha seguito passo dopo passo. E quindi è stato un lavoro eccezionale diretto da lui, da Vincenzo D'Agostino, unitamente alla Zeus. Sì. Però quest'anno poi automaticamente io sono diventata prodotto della Zeus al 100%, mentre l'anno scorso qualcosa giustamente l'ho dovuta pagare io. Certo. Invece oggi sono produzione al 100%, giustamente con la vendita dei dischi tu diventi... E quindi la Zeus ti ha proposto una serie di arrangiatori. No, Fiorellino non rientra nel budget che la Zeus... Ok, tu hai capito? Perché Fiorellino comunque è un tasce molto più elevato. Quindi in realtà la Zeus ti ha proposto una serie di persone. Ha proposto Gianni Cuciniello, sì, Gianni Cuciniello che comunque voglio dire... Ma per l'amor di Dio... Anzi, fa anche poco secondo me. Ecco. Fa anche poco. Ma perché per sua scelta perché non lo vuole fare. Lo so, per sua scelta. Infatti io non avevo il piacere di conoscerlo da vicino, lo conoscevo soltanto come nomea. L'ho conosciuto, lui si è complimentato con me nonostante che mi ha sentito tutta raffreddata. Giuseppe, ma che bella voce. Gianni, guarda che non stai ascoltando niente. Cioè alla fine se non stai sentendo Giuseppe attraverso il 30% di come sto normalmente. E lui veramente è contento di questa cosa sono dispiaciuta che ho dovuto cambiare un pochettino. Senti, allora Cofanetto a maggio, concerto, i quattro inediti. Riesce anche il disco? Una donna in fracca o solo il concerto? No, no. Cofanetto con il DVD del concerto in più dall'altra parte c'è il CD del live del concerto in più questi quattro nuovi inediti. Quattro nuovi inediti. E questo esce a maggio per la Zeus. Prima settimana di maggio. Senti una cosa ma adesso parliamo un po' di competizione perché per esempio Enzi Lardi è un uomo fortunato perché Enzi Lardi non si sente in competizione con nessuno. Io ogni tanto ci fotto a mazzarella. Ma fa bene. Io ci parlano Alessio, ci parlano i sacchi, gente che sta sulla bocca di tutti ma lui resta veramente impassivo. Non se lo fotto proprio. Ma credo che l'atteggiamento di Enzi Lardi sia assolutamente positivo perché quando ti fermi per molto tempo e poi ritorni a cantare è un po' come smettere di fare la palestra prendere dei chili e poi ricominciare da capo. Perché lui è cosciente. E' consapevole E' consapevole che comunque è stato fermo a un momento sette anni e quindi con Enzi Lardi questo giochetto non mi funziona. Adesso io so che con te non mi funzionerà. Però io partirei da una cosa ma forse ne abbiamo parlato anche alla radio. I famosi quelli che un tempo erano i gruppi d'ascolto cioè i famosi fans club. Oggi non sono più fans club sono gruppi d'assalto cioè nel senso che è vero. E secondo me sai dove è nata questa cosa un po' a chi si deve questa cosa? a Maria De Filippi ad Alessandra Moroso a Emma Marrone perché dopo la vincita di Alessandra Moroso anche in quel caso è partito un bel gruppo d'assalto ecco allora qua i gruppi d'assalto è cambiato proprio il metodo alla fine ce li avete siete in tre siete in tre ad avere certi gruppi d'assalto esagerati tu sono belve non si attina emiliana ma una roba una difesa che poi ti fa pure piacere perché quelli vivono per te però dipende ti dico la verità perché a me non fa sempre piacere perché è bello quando comunque hai delle persone che comunque ti stimano ti vogliono bene ti difendono e tutto però comunque la guerra non mi piace io non sono fatta per la guerra nel modo più assoluto io anzi vorrei che comunque le tre cantanti che tu hai appena citato io addirittura l'anno scorso nella Donna in Frack ti dirò di più volevo unire le nostre tre forze e fare una sorta fare un qualcosa di bello cioè un qualcosa di bello ma non solo a livello a dire proprio alle persone che si trovano dall'altro mondo guarda che comunque noi come noi ci etichettate se ci riuniamo e uniamo le nostre forze esce fatto vada a sta e poi vedete che Sanremo non è successo non è successo per delle determinate cose comunque io sono una ragazza e comunque poi quando vedo a un certo punto che dall'altro lato non c'è la controrisposta beh certo uno molla uno molla la presa ci prova se non mi riesce non mi riesce ti volevo chiedere stai guardando Nuziatina sull'isola? qualche volta non sempre come ben sai sta bene sta bene ho avuto l'occasione di guardarla proprio prima che ieri comunque non sono stata a casa ha perso 9 kg Nuziatina è una roba impressionante sta bene comunque mi piace come sta come sta agendo lì sull'isola anche se non la sto guardando spesso che come ben sai io non ci sto mai a casa quindi per quel poco che la vedo mi piace io so di una tua passione musicale per Emiliana Cantone però questo no mi piacciono entrambi io sono cresciuta con le canzoni di Nancy e con quelle di Emiliana mi piacciono entrambi i generi mi piace la cantante americana mi piace la cantante italiana cioè mi piace ascoltare di tutto e di più ti volevo chiedere io cantavo le canzoni di Nancy che cantante è secondo te cioè in quale categoria tu lo ficheristi lui ha una categoria sua cioè un genere suo cioè non lo posso etichettare magari come Alessio oppure come Toni Colombo oppure come Miraggio è Enzi Lardi ha un suo genere per me cioè capito è suo è personale no scusami è personale in silenzio era soffermandomi sulla faccia di Enzi Lardi che rira perché te l'ho fatta bella è il srira allora stavo cercando di capire perché mi ha detto una cosa ma ti sei fatto anche rosso tesoro caro ma che cos'è è la verità perché lui comunque non vuole imitare nessuno senti però a proposito del rosso ti devo dire una cosa ti piace il rosso a me mi piace il rosso con il capello il capello corto ma tu sei troppa bella cioè perché adesso vedo con la gravidanza capito il rosso va sempre io mi rendo conto che il rosso ti fa perdere il capello da quel poco che so insomma è un'aggressione sul capello ecco per anche perché comunque mi ero creata un personaggio tutto bella ma non perché tu adesso sia brutta però dico lo dicono in tanti dovendo scegliere in oltre perché tu e i capilla ne hai cagnate tante domani mattina si cambia ma è solo verde verde celeste verde no ma poi soprattutto alti corti bassi lunghi spettinata rockstar mi è 7700 look che ho cambiato ecco ma questo viene dal fatto che tu faceva parrucchiere quindi ha sbariato no ma mi piace proprio cambiare in generale per dirtene una settembre ho cambiato casa ma bello nuovo biancheria cioè proprio come si mi era spostata la vodka senti allora mezzanotte e 7 prima di farvi cantare il duetto e la canzone che ti ho chiesto e poi avanti un po' a parlare fin dove me lo permettono ti volevo chiedere cosa ruberesti annunziatina tu una cosa che c'ha annunziatina che faresti tua ma anche la forza che ha la forza che ha io ce ne ho tanta pure io però a volte ti dico la verità e mi dico basta non ce la faccio chiusare invece lei sempre emiliana cosa ruberesti ad emiliana la sua come devo dirti come devo spiegarti emiliana io a volte mi se me la prendo magari oggi oggi no ti dico la verità oggi mi faccio scivolare tutto addosso invece emiliana è proprio che lo dico quando se ne fa proprio la flemma la flemma staccare non mi fa lucaria e mi sposto no non ti sposto non mi porto proprio capito come e fa bene così così si cambia scendare per me no è vero così si cambia scendare però alla fine oggi mi ritrovo ad avere entrambi le cose io e invece che cosa daresti molto volentieri all'oro di pepe di donato cioè una caratteristica che c'ha pepe che tu cederesti che tu cederesti annunziatina e ad emiliana di pepe cosa daresti annunziatina e emiliana se potessero dare a pepe di donato e con questo si passa al canto